Grazie a questa importante presenza. Non ho detto niente ancora, ho solo detto forza venite che c'è posto. Allora, grazie all'ambasciatore, al console, a Renata, all'onorevole Bueno, all'onorevole Porta, al presidente del Comites, a tutte e a tutti voi, al direttore della rivista, a tutte e a tutti voi per questa accoglienza. Ieri Renata ha provato a risentirmi il portoghese, l'accento boa tarde, poi a un certo punto stamattina si accorta che stavo dicendo a tutti muy obrigado e mi ha guardato malissimo, dicendo muy non è portoghese, allora ho deciso che parlerò rigorosamente in italiano e mi scuserete per questo. Obbligato, lo dico prima perché ci credo profondamente, grazie per questa accoglienza e grazie per come rappresentate certi valori, certi ideali, che sono i valori e gli ideali che tengono insieme l'Italia e il Brasile e che fanno le nostre comunità, comunità speciali nel mondo, comunità che sanno cos'è la gioia, l'allegria, che sanno quali sono i valori fondamentali, che si impegnano per fare business ma sanno che non è il dio denaro l'unico valore che conta, che sanno che c'è un cuore grande che è quello della solidarietà, che è ciò che più di ogni altro risponde alle domande di senso della vita di tutti i giorni, ecco per quello che voi siete io vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine, la mia gioia per essere qua. Ovviamente questa missione nasce per le Olimpiadi e sarebbe assurdo negarlo, anzi sono molto molto felice dello spirito di questi giorni che abbiamo vissuto, abbiamo lavorato molto sia ieri che oggi, lo faremo anche domani, poi domani sera ripartiamo per l'Italia, ma nella costruzione, nell'incontro, nel dialogo con altri paesi, anche per le prospettive che l'Italia ha in termini di giochi olimpici del 2024, ma abbiamo lavorato innanzitutto per riconoscere e sottolineare ed evidenziare i valori che hanno fatto grande le Olimpiadi nella storia dell'Olimpiadi. Le Olimpiadi non sono soltanto un evento, non sono soltanto un'iniziativa, le Olimpiadi sono fin dai tempi dell'antica Grecia il momento in cui si faceva una tregua tra le guerre, un momento nel quale gli ideali di pace e di rispetto avevano il sopravvento su tutto. Noi sappiamo che nel corso della storia non sempre è andato così, ma sappiamo anche che mai come in questo momento i valori dello sport e io dico dell'identità, della cultura, della musica, sono valori fondamentali da difendere e da proteggere. Ecco perché le Olimpiadi non sono soltanto un grande evento, so che ci sono anche discussioni nella città di Rio sulla utilità o meno dopo i mondiali di calcio del 2014 di avere anche questo appuntamento, ma quello che oggi le Olimpiadi rappresentano è un messaggio contro la paura, contro la violenza, contro il fanatismo, contro l'estremismo. Voi distanti dall'Italia, dall'Europa, forse lo vivete con meno impatto emotivo, ma ciò che è accaduto negli ultimi mesi in Europa è davvero importante ed è davvero drammaticamente impattante sulla vita di ciascuno di noi. I terroristi hanno ucciso nei luoghi della quotidianità, nei teatri, nei ristoranti, nei musei, allo stadio. Hanno scelto cioè di uccidere nei luoghi normali. E qual è il messaggio? Il messaggio che sta dietro questa decisione è che se non riescono ad ucciderti vogliono farti vivere nella paura, nel terrore, vogliono farti chiudere in casa, vogliono impedirti di vivere i valori dell'incontro, della curiosità, del dialogo, del rapporto con gli altri. Le Olimpiadi allora diventano un'occasione per riaffermare i valori profondi nei quali noi crediamo. Diventano un'occasione per dire che noi non ci faremo chiudere in casa, che noi non rinunceremo a vivere con gioia e convinzione la nostra esistenza e che non rinunceremo ai valori profondi che il Brasile esprime, che l'Italia esprime, che la comunità internazionale esprime. Non rinunceremo a quei valori perché sappiamo che quei valori sono la carta d'identità dei nostri popoli. Ah, ma tu l'hai presa lontana, caro Matteo, sei partito da lontano, anziché parlare delle Olimpiadi e dei rapporti bilaterali, ci fai questo lungo discorso sul rapporto tra identità e lotta al terrorismo. Sì, sì, perché io credo profondamente nell'ideale olimpico. Vi confesso, quando ero piccolo e quando ero anche un po' meno piccolo, l'ideale olimpico è la frase di Décubertin che l'importante è partecipare, non è che mi piacesse molto. È vero che sono un tifoso della Fiorentina e quindi l'importante è partecipare può sembrare una frase... Sì, però non ridete troppo, potremmo offenderci. Però, se in questa frase crediamo fino a un certo punto, nella frase, nei valori universali che lo sport esprime, crediamo moltissimo, crediamo moltissimo. E allora ecco perché ho scelto di accompagnare la delegazione italiana in questi primi giorni, assieme al presidente del CONI, ed ecco perché abbiamo detto a quelle donne, quegli uomini, a quelle ragazze, a quei ragazzi, a quegli atleti che da domani lotteranno per una medaglia, lotteranno per un sogno che devono avere dentro di sé lo stesso sentimento di orgoglio e di emozione che noi abbiamo provato quando, grazie alla Pirelli, insieme all'ambasciatore, abbiamo visto il Cristo Redentore illuminarsi di verde, bianco e rosso due notti fa. perché in quel gesto che è andato a illuminare uno dei simboli, forse il simbolo di questa vostra città, il santuario diocesano dedicato appunto al Cristo Redentore, vedere i colori bianco, verde e rosso ci ha fatto pensare che il sentimento dell'appartenenza e dell'orgoglio si prova, certo, quando si vede la bandiera più alta, i sarsi e far partire le note dell'ino di Mammeli, ma si prova anche quando ci riconosciamo di essere appartenenti a una comunità. È su questo punto che vorrei intrattenervi ancora prima di passare alla parte più politica, cioè a mangiare, che però vorrei che non suonasse come un messaggio politico troppo forte, perché forse non è il periodo adatto, diciamo, ma il sentimento dell'appartenenza è quello che molti di voi hanno stando qui in Brasile, qualcuno conosciuto, forse l'ultima arrivata sei tu che sei arrivata qualche mese fa, giusto da aprile, con il tuo papà, ma anche a chi, come diceva Renata, è qui da anni. Pensate che ieri a San Paolo mi hanno raccontato, me lo diceva Fabio, che esattamente il 4 agosto, quindi 110 anni fa, del 1906, proprio nel Mar Mediterraneo, partiti credo da Genova, una nave di migranti che stavano andando dall'Italia, che stava andando dall'Italia in Brasile, si rovesciò con il carico di sangue, di dolori e di morti che in queste ore stanno sui giornali italiani provenienti da altra parte del mondo. Mi ha molto colpito perché c'è stata una stagione in cui i migranti eravamo noi, gli ultimi eravamo noi, e magari qualcuno apparteneva alle vostre famiglie, era il vostro nonno, il vostro bisnonno, e questo qualcuno con grande onore, dignità, orgoglio e coraggio ha costruito una storia in Brasile, che è una storia di successo, indipendentemente dalla qualità dei progetti realizzati o dalla quantità dei denari, ma è una storia di successo perché lo vedete nei vostri figli, nei vostri nipoti. Bene, questo sentimento di appartenenza è il sentimento per il quale vorrei dirvi grazie. Io oggi qui rappresento quel tricolore che era illuminato sul Cristo Redentore, ma lo rappresento insieme alla parte più bella dell'Italia, che sono le donne e gli uomini che ci credono, che non si arrendono, che pensano che il nostro Paese abbia un futuro, che non abbia soltanto un passato, che non si accontentano di vivere in un luogo pieno di meraviglie, ma vogliono fare della loro vita una meraviglia, e che provano quotidianamente a fare del proprio meglio perché i valori grandi di cui l'Italia e il Brasile sono portatori sani siano valori che vengono iscritti dentro il DNA dell'Europa, in un momento in cui l'Europa ha disperato bisogno di valori. Che ce ne facciamo soltanto delle discussioni sulle regole economiche se poi non riusciamo ad essere in pari con la vita delle persone? Che ce ne facciamo delle discussioni tecnocratiche se poi perdiamo gli ideali che hanno fatto grande il nostro passato e che possono fare grande il nostro futuro? Ecco perché sono felice di essere qui. Ed ecco perché voglio prendere degli impegni concreti sul rapporto tra Italia e Brasile, ma solo dopo aver spiegato perché crediamo in questo sentimento dell'appartenenza. Noi faremo missioni molto più spesso in Brasile. Noi saremo qui con il Ministro Calenda entro la fine dell'anno con una missione di imprenditori perché pensiamo che una volta superata l'attuale fase politica il Brasile debba tornare ad essere un punto di riferimento importante anche per il nostro business. Ma non lo facciamo soltanto per una questione di business, lo facciamo perché crediamo in questi valori. Noi lavoreremo come mi è stato richiesto da una petizione che molti di voi hanno firmato perché i servizi dei Consolati Generali funzionino meglio e siano più efficienti in termini anche di risorse provenienti da Roma, ma lo facciamo perché pensiamo, crediamo e siamo certi che questo sia un modo per riaffermare la solidità di una relazione e di dei valori. Non soltanto come mero fatto amministrativo. E a chi di voi ha dei figli che stanno in delle scuole o comunque ha in testa di costruire delle scuole perché poi una delle cose belle di questo periodo è che stanno nascendo in tutto il mondo scuole italiane fatte da persone che magari sono la seconda, la terza generazione, si sappia, l'ho detto a San Paolo ieri di fronte a due delle scuole italiane, alla Dante e alla Montale, ma lo dico anche qua a Rio e lo dirò in tutte le tappe del nostro viaggio, si sappia che la delega per la legge sulla scuola all'estero che è contenuta nella legge 107, la cosiddetta legge buona scuola del 2015, sarà esercitata entro la fine dell'anno per dare più diritti, più opportunità e più dignità a chi studia fuori dall'Italia ma seguendo i dettami della scuola italiana. Dunque le cose vogliamo farle concretamente, vogliamo essere molto operativi, ma lo facciamo perché abbiamo dei valori, non perché il Brasile è una grande potenzialità, non perché il Brasile è una grande risorsa, lo facciamo perché abbiamo dei valori che voi rappresentate, che conoscete molto bene. Chiudo raccontandovi il motivo ispiratore del percorso che abbiamo fatto nel nostro viaggio. Noi ci siamo fermati con Agnese, con Emanuele, non è tutta la famiglia, due li abbiamo lasciati agli scout due su tre, il terzo è venuto a vedersi le Olimpiadi comprensibilmente, ma siamo partiti da Salvador Dobaia perché? Perché avevamo conosciuto, abbiamo conosciuto un sacerdote a cui eravamo molto legati e che adesso non c'è più che arrivò qua per la prima volta nel 1965, arrivò a Salvador Dobaia. Aveva scelto di dedicare la sua vita alle missioni e però Salvador Dobaia trovò un ambiente in Brasile in generale nel quale prima ancora che preoccuparsi del proprio annuncio religioso si preoccupava di essere vicino, prossimo a chi stava in momenti di difficoltà. E Don Renzo, questo era il suo nome, mi aveva fatto promettere che sarei stato a Salvador Dobaia. Allora nella prima occasione di viaggio in Brasile ho scelto di partire di lì, dalle favelas nelle quali lui aveva lavorato, come atto di omaggio a questo nostro amico che non c'è più da due anni e che credo avrebbe sorriso di tutto questo perché ci raccontava sempre che la gioia che aveva conosciuto in Brasile l'allegria, che è una parola più complessa della gioia, più bella, più affascinante, più onnicomprensiva non l'aveva poi vista da altre parti. Allora siamo partiti da Salvador Dobaia, abbiamo incontrato alcuni progetti internazionali quelli dell'Avsi, quelli di Firenze, poi ci siamo spostati a Rio e da Rio abbiamo avuto modo di toccare con mano alcune delle belle realtà che il signor Consul e il signor Abbaciatore hanno ricordato. Poi a San Paolo, a incontrare la città mondiale con più italiani, più che a Roma, impressionante, si consuma più pizza credo a San Paolo che in tutto il resto del pianeta come città, un milione di pizza al giorno. Se ci fossi io, ora accertato, dovremmo fare nella nostra missione anche un lavoro per aiutare di più i prodotti agroalimentari veramente italiani perché se c'è una cosa che mi manda sempre fuori di testa è che non riguarda solo il Brasile dove c'è un gusto più forte ma c'è un mercato potenziale di 90 miliardi di euro e noi abbiamo soltanto 36 miliardi. Perché il mercato potenziale? C'è prodotti che suonano in italiano e che vengono venduti hanno un budget complessivo di 90 miliardi di euro e soltanto 36 miliardi di questi sono italiani veri. È il parmesan col parmigiano, l'olio d'oliva che non è olio d'oliva che magari è di altri paesi però che c'è il colore bianco verde e rosso. Ma tutto questo, e chiudo, cosa ci porta a dire? Prendo proprio l'esempio dell'agroalimentare, potrei farne altri sull'ingegneria di alta qualità, sulla manifattura 4.0, sulle infrastrutture che c'è una forza e una potenza di ciò che è l'Italia che ancora non è espressa fino in fondo. Di chi è la colpa? Innanzitutto nostra, dei politici italiani che troppo spesso hanno pensato che la paura della globalizzazione dovesse essere cavalcata. La globalizzazione fa paura, probabilmente sì per tanti motivi ma è anche una grande opportunità, ci consente di essere protagonisti nel mondo il mondo ha fame di bellezza, il mondo ha fame di qualità, il mondo ha fame d'Italia e allora perché questo finalmente possa diventare occasione di sviluppo per il futuro io vi chiedo di aiutarmi in un'operazione che stiamo cercando di fare voi sapete che il governo italiano dopo molto tempo è tornato alla stabilità e sappiamo quanto sia importante la stabilità, lo sapete anche in Brasile molti imprenditori italiani vorrebbero tornare a investire qua ci chiedono che ci sia stabilità, la stessa cosa che hanno chiesto a lungo in Italia in Italia ci sono stati 63 governi in 70 anni frase tipica, dura più un gatto in autostrada che un governo in Italia con tutto il rispetto per i gatti che dobbiamo avere e che non mancherà bene adesso che siamo tornati alla stabilità, adesso che finalmente il percorso di riforma è iniziato e tra l'altro avrà un appuntamento importante nel prossimo autunno con anche il vostro voto e sarà importante che votiate poi sceglierete come votare, naturalmente ciascuno ha le sue idee io le mie ma è importante che la vostra comunità si faccia sentire quello però che è importante, la cosa che vi chiedo è di darci una mano per far passare il messaggio che l'Italia non è soltanto una cosa di cui lamentarci o di cui avere nostalgia ma che è un grande patrimonio di valori, di ideali sono quei valori e quegli ideali che i vostri nonni hanno legato con lo spago in una valigia mettendoli spiritualmente e idealmente dentro i loro averi quando magari con un viaggio lungo mesi arrivarono qui sono gli stessi ideali e valori che avete ciascuno di voi e che portate avanti nella vostra vita a Rio vorrei che ci aiutaste tutti insieme a restituire al nostro paese l'orgoglio e l'appartenenza l'orgoglio dell'appartenenza l'orgoglio per l'appartenenza ecco, tra qualche giorno, io spero già domani sentiremo l'inno di Mameli speriamo anche perché sennò dicono che porto sfortuna quindi bisogna che si arrivi alla medaglia numero 200 la prossima medaglia d'oro sarà la numero 200 dell'Italia ma quel sentimento che proverete quando sentiremo suonare l'inno e vedremo il tricolore è lo stesso sentimento che ciascuno di voi sicuramente ha nel cuore quando lavora per quegli ideali di cui ha fame il mondo di cui ha bisogno l'Europa sono ideali che Italia e Brasile conoscono vi chiedo tutti insieme di mantenerli vivi noi come governo faremo di più nei prossimi mesi per dare una mano a questa relazione bilaterale anche approfittando di quello che avverrà e della nuova fase di stabilità che si aprirà ma chiedo a voi di darci un aiuto perché un governo da solo non può fare niente un governo insieme ai cittadini anche se vivono lontano dai confini nazionali può fare la più grande delle riforme la restituzione della fiducia e dell'orgoglio nel nostro futuro con questo spirito grazie per la vostra accoglienza sono certo che grazie anche al vostro aiuto riusciremo a fare un grande lavoro per il futuro dell'Italia e del Brasile ci rivedremo qui innanzitutto con il ministro Calenda e la delegazione di imprenditori già tra qualche settimana già tra qualche mese ma lasciatemi dire con il cuore pieno di gioia per aver condiviso con voi questi tre giorni che tutti insieme possiamo fare molto per rendere questo nostro pianeta un pianeta un pochino più innamorato del coraggio un po' meno impaurito un pochino più capace di costruire speranza è un po' meno vittima della paura un pochino più capace di portare i nostri valori nel futuro viva il Brasile, viva l'Italia e grazie a tutti voi per l'accoglienza grazie a tutti grazie a tutti